Arrestato dai carabinieri di Fano, un 39enne per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era da poco passata l'ora di pranzo oggi, quando i carabinieri del nucleo radiomobile fermano una vecchia Fiat Punto, lungo la statale Tramarotte e Senigallia. Da subito, appena aperto il finestrino, i militari avvertono un forte odore di marijuana provenire dall'interno e così, sebbene l'uomo fosse incensurato, i militari hanno perquisito la vettura rinvenendo 5 grammi di eroina e un etto di marijuana. Perquisita poi anche l'abitazione dove l'uomo viveva con i genitori, ignari della doppia vita del figlio, dove sono stati rinvenuti due etti e mezzo di hashish, un etto di cocaina, tre flaconi di metadone, bilancini di precisione e materiali da confezionamento. Un laboratorio dello spaccio nella camera da letto del ragazzo che, al commento di un militare, ti manca solo l'ecstasy, ha risposto tranquilli, troverete pure quella e infatti da un nascondiglio sono saltate fuori pasticche di droga sintetica. Il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Pesaro, in attesa della convalida dell'arresto.